Il piano infrastrutture del governo prevede solo la termolilesina, a parte l'elettrificazione e gli altri cantieri sono per lavori di manutenzione. Buongiorno e bentrovati per questa prima edizione del telegiornale. In primo piano le tante infrastrutture attese da anni nella nostra regione, strade e ferrovie fondamentali per gli spostamenti e quindi anche per l'economia, con progetti che però nella maggioranza dei casi sono al momento soltanto dei desideri perché nei grandi piani nazionali il Molise appare emarginato. Facciamo il punto con Paolo Martini. Il CdA Anas promuove la San Vittore Termoli. La notizia del via libera all'opera però non è di oggi, risale a 16 anni fa. Oggi l'asse che dovrebbe collegare il tirreno all'Adriatico passando per il Molise, l'agoniato ponte tra due mari, continua ad essere evocata e invocata ma non realizzata. Sicuramente non fa più parte delle opere strategiche e prioritarie del Governo nazionale. L'ultimo documento dell'esecutivo, un testo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiamato Italia Veloce e fatto alla fine del lockdown, elenca una serie di opere che vorrebbero rendere l'Italia iperconnessa. Nel documento il Molise non c'è, se non per una trentina di chilometri di territorio, quello della ferrovia adriatica ad alta velocità da venire, tra Termoli e Lesina. Per il resto la regione è assente e tantomeno si parla della San Vittore Termoli. Oggi le opere infrastrutturali significative per quanto riguarda il settore dei trasporti, in corso d'opera, si contano sulle dita di una mano. In pratica i cantieri di RFI per l'elettrificazione da Rocca Ravindola a Campobasso e la metropolitana leggera. Il resto non è strategico, si tratta di decine e decine di interventi, alcuni anche molto significativi in termini di risorse impiegate o programmate, ma limitati. Qualcosa di simile ad un rammendo del territorio, tra strade di collegamento e varianti circumlacuali, turistiche. Toppe non molto dissimili da quelli che oggi l'ANAS elenca nel suo sito. Lavori di manutenzione sulla Bifernina, lavori sulla Trignina, lavori sulla Fussaltina. Toppe che comunque alla fine costano. I cantieri oggi sono 22 per una spesa di decine di milioni di euro.